Un saluto dal Tg della Mobilità, sono in corso i lavori di riqualificazione al ponte della Magliana, gli interventi prevedono sino al 26 gennaio l'installazione di un nuovo spartitraffico centrale, sino a domani sarà prontato il cantiere di notte con chiusure complete della carreggiata della Roma-Fiumicino dalle 21 alle 6 del giorno seguente, mentre nella stessa fascia oraria viene chiuso il viadotto della Magliana nelle due direzioni. Nei giorni successivi i lavori all'altezza del ponte saranno realizzati di giorno su una singola corsia per senso di marcia, mentre l'altra sarà disponibile per il transito delle automobili e dei mezzi pesanti. I lavori sulla sede centrale della carreggiata in direzione dell'aeroporto avranno una durata di circa 35 giorni, durante i quali sarà chiuso al traffico l'intero tratto del ponte, mentre il viadotto della Magliana lo sarà per chi proviene da via Lizacco-Newton. Le linee del trasporto pubblico saranno deviate su percorsi alternativi. E tutto appuntamento alla prossima edizione. Grazie a tutti.